Cario, basta con il francese, con l'inglese, argentino, fiorentino, me la devi dire questa cosa? Più che me, a regina, perché me la chiesto, eravamo a casa che fosse per il sottetto con cipolle e mai invasa pure il tupè. E poi mi devo andare a lavorare? E lasciali mi fa. Allora, una domanda, regina voleva sapere, ma anche noi, qua c'è una, carina, qua c'è una scuola per fare il porno. Ho avuto una chiamata.